Signore e signori, benvenuti all'incontro di oggi tra... Viva! 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 Grazie. 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 Sostituzione per il Milan, numero 11, viene sostituito con il numero 39. Grazie. Grazie. Il quarto uomo indica due minuti di recupero. Grazie. Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile fumare solo nelle aree appositamente predisposte all'interno dello stadio. Cambio di giocatori. скodata con il piatto. Sì. Grazie. 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 La fluenza di quest'oggi è di 72.306 spettatori. Grazie. 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 Ci saranno 5 minuti di recupero. Grazie. Grazie. Grazie.